In questo video ti mostro le possibilità di modellazione offerte dal PlanBridge. Puoi creare assi e profili a tuo piacimento. In alternativa, puoi importare un asse direttamente da BIM Plus utilizzando il formato LEND XML. Puoi definire e importare le sezioni trasversali e assegnarle alle unità strutturali. Nel prossimo video scopriremo il nostro canale. Vedremo come definire una sezione trasversale della trave principale, come creare le sezioni trasversali e gli elementi strutturali.